Questo tavolo da stiro intelligente possiede una struttura del telaio rinforzata, oltre ad una superficie di stiratura più ampia, particolarmente adatta quando si stirano lenzuola e altri capi di biancheria molto larghi. E la qualità è fantastica, ecco perché questo tavolo da stiro è dotato di una garanzia di 10 anni. Un aspetto molto pratico, il tavolo da stiro super stabile, possiede un piano di lavoro impermeabile all'acqua ed un vassoio raccoglie acqua con l'apposito recipiente acqua bowl per drenare l'acqua condensata. Addio acqua sul pavimento! Il praticissimo porta caldaia, adatto a tutti i modelli standard di caldaie, è ripiegabile per guadagnare spazio e possiede un bordo di sicurezza. Il design funzionale ed elegante è ergonomico. La caldaia a vapore è così posizionata sempre alla giusta altezza. Questo tavolo da stiro intelligente possiede un blocco di sicurezza che previene la chiusura accidentale, un dispositivo indispensabile quando si hanno dei bambini piccoli. Inoltre, questo blocco evita che il tavolo da stiro si apra quando non vuoi. Il piano di stiratura permeabile al vapore misura 124 x 45 cm. La larghezza rende molto pratica la stiratura. L'altezza può essere regolata in 7 diversi livelli, da 75 a 98 cm, e sono inoltre disponibili fodere sostitutive perfettamente adattabili e con decori di design. Grazie a tutti.